Settimana cruciale per l'avvio della seconda fase per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Il 15 febbraio partirà in tutta la regione, anche se qualche ASL potrebbe anticipare i tempi come quella di Teramo, che potrebbe fare da prepista al nuovo step della campagna vaccinale, anticipando di qualche giorno l'inizio delle somministrazioni. Sempre in settimana è previsto l'arrivo di AstraZeneca, dosi che però saranno rivolte alle persone al di sotto dei 55 anni di età e destinate in questo caso a forze di polizia, insegnanti e agenti penitenziari. Queste stesse dosi andranno ad aggiungersi al kit di Pfizer e Moderna, con i quali si procederà a difendere dal virus gli ultraottantenni. Sì, settimana cruciale per il completamento della fase 1 per alcune ASL. Partiamo con gli ultraottantenni e parallelamente anche con AstraZeneca, quindi forze di polizia, scuole e penitenziari. I vaccini sono arrivati, sono arrivati i vaccini Pfizer, arriveranno vaccini Pfizer, arriveranno vaccini moderni e anche AstraZeneca. Quindi con AstraZeneca dovremo vaccinare le forze dell'ordine, come ho già detto, la scuola e i penitenziari. Con Pfizer, con Pfizer Moderna adesso vaccineremo gli ultraottantenni attraverso una distribuzione territoriale, quindi coinvolgeremo i sindaci, abbiamo già a dire il vero coinvolto i sindaci, vedremo adesso i medici di medicina generale quale sarà il loro coinvolgimento e poi partiremo, diciamo il 15 è la data in cui si partirà con gli ultraottantenni, qualche ASL potrà partire anche prima. Insomma, ci stiamo lavorando già da stamattina per, come dire, per tutta la fase di preparazione per poi riuscire a partire entro la settimana. Dunque è previsto che da metà febbraio le somministrazioni viaggeranno su due binari paralleli, tra gli over 80 e il personale scolastico, polizia e penitenziari. C'è necessità della collaborazione dei primi cittadini, del coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche dei prefetti per quanto riguarda le forze dell'ordine, perché comunque le forze dell'ordine sono tanti corpi e quindi li dovremo coinvolgere tutti e stiamo lavorando anche su questo, quindi lo sforzo è davvero tanto, ma siamo pronti. Direttore, secondo lei quanto tempo ci vorrà per completare questa fase 2? Adesso questo è presto a dirlo, anche perché per esempio per luglio 80 anni bisognerà andare anche a domicilio per una parte e la vaccinazione domiciliare ha tempi molto più lunghi di quelle invece fatte in centri vaccinali, per cui insomma adesso è presto a dirlo, però cercheremo di fare il più velocemente possibile. Grazie 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 Grazie